Non sono né stanco né pessimista, sono fresco e ottimista. Raffaele Fitto, capolista di Forza Italia nel mezzogiorno per l'Europea, arriva a Bitonto dopo essere stato in tre città e averne in programma altre due. Ad Alfano, che a Bari ha parlato dell'NCD come catalizzatore di una grande unione dei moderati, risponde Penso che sia un centrino privo di prospettiva politica. In politica ci sono alcuni valori che sono indiscutibili, come la realtà e la coerenza. Il leader dei forzisti nel sud, a due settimane dal voto, spinge il piede sull'acceleratore perché queste elezioni sono importanti, dice ricordando come il governo Berlusconi si è caduto nel 2011 anche per influenze europee e che i tre governi successivi non hanno avuto legittimazione popolare in Europa, hanno obbedito senza discutere. Forza Italia vorrebbe la proroga del fiscal compact, lo sforamento del 3% deficit pill e nel mezzogiorno un uso migliore delle risorse. Il rapporto del sud con l'Europa non può che essere costruito e strutturato sulla base di alcuni elementi, uno fra tutti è quello delle modalità di utilizzo delle risorse comunitarie ma questo penso che debba ritrovare i punti di sintesi nel lavoro svolto proprio dal governo Berlusconi. Io sottoscritti un'intesa col commissario europeo AN e con tutte le regioni che puntava alla concentrazione nell'uso delle risorse per evitare la spesa di millerivoli che non produceva nessun tipo di risultato.